Il giro d'Italia con Saporitali. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Ermini costringe il PD Irpino alla resa dei conti dopo la scoppola elettorale. Lo fa comunicando con una lettera indirizzata agli scritti, tappe e date del congresso provinciale. Gli aspiranti segretari dovranno depositare la candidatura entro il 9 aprile. Il 14 e il 15 si svolgeranno le votazioni nelle assemblee di circolo. Il 21 aprile avrà luogo la proclamazione in caso di candidatura unitaria o ballottaggio se ci fossero più candidati e nessuno di questi avesse raggiunto la maggioranza assoluta. Nel giorno della ricorrenza della fondazione di Roma il PD Irpino rifonderà gli organismi dirigenti dopo due anni dalle dimissioni dell'ultimo segretario, l'interregno del direttorio e le tante polemiche interne sulla gestione. Il congresso e i suoi tecnicismi poco interessano ai più. Poco interessa che potranno votare circa 7500 iscritti e chissà se tutti lo faranno davvero. Poco importa che si eleggeranno l'assemblea composta da 80 delegati e il nuovo presidente del partito. E' tuttavia rilevante il fatto che l'esito del congresso avrà ripercussioni sul destino elettorale della città di Avellino, storicamente governata dal centro-sinistra. Dai risultati congressuali infatti dipenderanno le scelte dei candidati a sindaco, della squadra in vista delle comunali, primarie sì, primarie no, alleanze e con chi vincitori e vinti del congresso saranno determinanti nelle scelte. Ermini pochi giorni fa intervistato da Telenostra ribadiva come l'unico modo per ridare classe dirigente al PD Irpino fosse il dibattito su idee e progetti per la città e la provincia, aggiungendo pure che una volta individuato il candidato il partito avrebbe dovuto stringersi intorno ad esso indipendentemente dalle volontà dei singoli e in questo passaggio il PD si sarebbe giocato tutto, aggiungeva Ermini. Tuttavia va sottolineato che mentre Ermini pronunciava quelle parole, manovre erano in atto per far saltare per la terza volta di fila la celebrazione del congresso. Manovre andate evidentemente a vuoto, a meno di clamorosi e a questo punto improbabili colpi di scena. I tempi ristretti imporranno ai rappresentanti delle varie anime democratiche incontri. Nello scambio di auguri pasquali le indicazioni sul futuro segretario e c'è da giurarci. Sui nomi e sugli esiti del congresso non mancheranno le sorprese.